Come vanno le prenotazioni per quest'anno? Discretamente bene, sicuramente c'è una situazione di crisi e non deve nasconderlo, comunque diciamo che non possiamo lamentarci più di tanto. La nostra regione sociale è molto accattivante da questo punto di vista, al di là della denominazione, anche perché riusciamo a offrire una serie di opportunità con costi abbastanza competitivi. Le prenotazioni non sono diminuite rispetto all'anno scorso per voi? Non credo, non credo, perché la gente comunque spalma le vacanze durante l'anno, quindi tende a fare piccoli viaggetti durante tutto l'anno. Pochi si spingono sulla settimana, magari andando, scegliendo un pacchetto per il Mar Rosso, su Sharma. Sono anche mete forse meno costose. Sono le mete meno costose, sempre appetibili, tra l'altro c'è un ritorno sul Mar Rosso rispetto all'anno scorso che era completamente crollato. In vacanza per Pasqua avete organizzato qualcosa? No, 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 niente, niente, non ci sono soldi, lo stipendio è la pensione, non si può andare fuori. Sto tranquilli a casa questa Pasqua. E anche a Pasquetta? A Pasquetta è in campagna, le nostre campagne, quindi a stare a contatto con la natura, questo sì, almeno questo ce lo permettiamo. Sono cambiate molte cose, infatti siamo venuti a vedere i costi minimi che ci sono in giro e cercheremo di risparmiare, insomma. Faremo tutto al minimo. Per questa Pasqua, come al solito, la domenica di Pasqua si riuniscono tutte le famiglie, è già un bell'oro, è già tutto esaurito e sono contento. Per il resto invece notate qualche calo? Sì, sì, per il resto c'è un calo, del 30% c'è il calo e si sente.